Ora parlo io. Questa è la mia storia. Vi starete chiedendo chi sono. Vi do qualche indizio. Sono alta 8 cm, peso circa 625 grammi, ho un girovita di 13 meravigliosi centimetri e al tatto sono spugnosa ed umidiccia. E no, non sono una medusa. Mi presento, sono il polmone di Anne. So di essere una narratrice insolita e vi starete chiedendo perché proprio io racconterò questa storia. Vi dirò solo questo. Se Anne oggi si sta preparando per il suo solito incontro alla high school è anche per merito mio. Risfogliamo le pagine. Anne si sta preparando per la sua solita conferenza e grazie ad un album di ricordi si riemerge negli anni 60. Ricorda la sua adolescenza, la sua amica Emily, il primo tiro di sigaretta, il trasferimento al college, Andrew e la cultura hippie. Ed eccola lì, la prima Polaroid che avevano scattato nel 1969 insieme a Chrissy e gli altri amici di Andrew. Quanta spensieratezza! E da qui riprenderemo il nostro racconto. Vi ricordo che Anne era una ragazza fuori dagli schemi, a cui le regole stavano strette. Quando Anne stava con Andrew e i suoi amici, la parola regola non esisteva. Anne amava il loro modo di essere. Si sentiva libera, viva. E me ne accorsi perché ogni volta che pensava a loro sentivo provenire dal cuore un'energia incontenibile. Le giornate si ripetevano quasi sempre allo stesso modo. Si incontravano nel garage di Andrew, parlavano del più e del meno, ascoltavano una strana musica che chiamavano rock psichedelico e a volte stavano senza vestiti. Un comportamento che io trovavo alquanto strano. Anne, da quando li aveva incontrati, era felice. E a me bastava quello. Quando stava con loro era sempre avvolta da una nuvola di fumo bianco, della quale potevo sentirne l'odore. Ne ero attratta. E detto tra noi, ne avevo abbastanza di tutte quelle sigarette che Anne fumava ogni giorno. Avevo bisogno di aria nuova. Quel giorno me lo ricordo molto bene. Vidi Andrew passare ad Anne una specie di sigaretta, ma non era bianca e arancione come le solite. Era il 14 maggio 1969. Anne si era decisa a provare la famosa joint. Così l'aveva chiamata Andrew passandogli quella strana sigaretta tutta bianca. Anne sapeva come fumare. Aveva iniziato a 13 anni e me ne assumo le colpe. Ero curiosa. Volevo provare quello che provavano gli altri polmoni e la spinsi a farlo. Con il seno di poi posso dirvi che me ne pento amaramente, ma questa è un'altra storia che vi racconterò più avanti. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Sì, Anne è con Andrew e si sta portando joint alla bocca. Sapeva che Andrew e i suoi amici la usavano per sballarsi, ma non sapeva cosa questo significasse concretamente. Io ero euforica. Non vedevo l'ora di sapere come fosse, l'odore era davvero invitante. In un attimo la nuvola bianca che avvolgeva Anne mi pervase e si prese tutto il mio spazio. Feci tossire Anne e ancora oggi me ne vergogno. Che razza di fumatore fa tossire la sua donna dopo sei anni di esperienza. Andrew rise e inizia a spiegare ad Anne che la marijuana non andava fumata come il tabacco. Avrebbe dovuto inalare profondamente e trattenere il fumo finché riusciva a resistere e solo allora lo avrebbe potuto buttare fuori. Le fece vedere come fare. Lei si mise ad ascoltare, osservare e imitare attentamente tutto ciò che diceva e faceva, senza staccare gli occhi di dosso. Ovviamente ascoltai anch'io e capì che il mio aiuto era fondamentale. Per far sì che sballasse dovevo permettere ad Anne di trattenere una grande quantità di fumo dentro di me. Però quel giorno non successe nulla. Anne fece tesoro dei consigli di Andrew e nei giorni seguenti provò a fumare la marijuana come le era stato spiegato e dopo numerosi tentativi iniziò a capire come fare. Il passo successivo da compiere era imparare a percepire gli effetti. Anne doveva riconoscere i sintomi e collegarli all'uso della marijuana. Anche questa volta però sembrava non succedere nulla. Poi all'improvviso, dopo circa una mezz'ora buona, Anne per la prima volta provò la famosa fame chimica. Christi gliene aveva parlato il giorno prima, dicendole che è uno dei sintomi più comuni. Aveva bisogno di mangiare qualcosa il prima possibile. In garage c'era un armadietto in cui tenevano gli snack. Anne aprì l'anta, prese la prima cosa che le capitò tra le mani e in un boccone se la divorò. Fece un sospiro di sollievo. Così mi gonfiai rapidamente per tornare alla forma iniziale. Adoro quando lo fa. Si mise a parlare con Christi. Il grande orologio appeso alla parete segnava le 15.00. Le raccontò del suo primo incontro con Andrew, di quanto la facesse sentire importante ed altre smancerie che non sto a raccontarvi. Ora l'orologio segnava le 17.00. Senza neanche rendersene conto erano passate ben due ore. Per Anne, il tempo sembrava essersi fermato. Non capiva cosa stesse succedendo, così chiese conferma a Christi, la quale senza esitazione le confermò che sì, erano proprio le 17.00. Allora, Christi capì e spiegò ad Anne che un altro effetto della marijuana ti porta ad avere una sensazione diversa dello scorrere del tempo, quasi impercepibile. Anne iniziò a ridere a crepa pelle senza motivo e in quel momento realizzò che era davvero sballata.